Arriva la bolletta del telefono in chiesa, 2257 euro. Il prete, meravigliato, dice ma come è possibile? Io non telefono mai dalla sacrestia, cioè il telefono in sacrestia. E va a fare un reclamo alla Telecom. Alla Telecom fanno i loro controlli e dice guardi da lei ci sono un sacco di telefonati in Brasile e non so chi è che lei fa. Il prete si mette di punta e scopre che il pappagallo che c'ha in sacrestia tutti i giorni telefona alla sua amica pappagalla in Brasile. Il prete lo scopre, lo prende, lo riempie di botte, poi lo apre, lo mette su una croce e lo pende in chiesa come in chiesa il pappagallo in croce. La mattina comincia a fare chiaro, giorno, e il pappagallo vede da lontano che c'è un'altra croce dove c'era Gesù e sopra c'era scritto Inri. Il pappagallo vede, dice, lo chiama Inri, Inri. Gesù che stava lì dice che c'è? Ma da quanto tempo sei su quella croce? Duemila anni che sono qua. Ma dove cavolo hai telefonato? Mi piaciuto? Se vi è piaciuta, iscrivetevi al canale, così sarete informati ogni volta che pubblico una nuova bazelletta.